Le strade sono piene di persone che tentano di fuggire a piedi. Si parla di decine di migliaia di morti. Non sappiamo ancora cosa stia causando in Europa tutto questo. I testimoni parlano di persone che mostrano un comportamento psicotico. Evitare il contatto visivo con questi esseri. In 24 ore si è diffuso in Europa, con migliaia di casi in Spagna. Quello che vediamo non sono, ripeto, incidenti isolati. Grazie a tutti.